che è un processo che mira ad incrementare, a migliorare la qualità nutrizionale di una pianta o di parte di essa. Per raggiungere tale scopo è opportuno che si incrementano i fattori nutrizionali tramite specifiche tecniche, fattori nutrizionali di tipo organico e di tipo minerale, diciamo, sulle piante. La biofortificazione è un argomento molto attuale in quanto la malnutrizione minerale è una delle principali cause di morte, diciamo, oggigiorno, per cui è un argomento di ricerca, diciamo, molto importante. Personalmente mi sono occupato di biofortificazione agronomica di ortaggi, somministrando elementi traccia, selenio, iodio e molibdeno, soprattutto, su ortaggi sia a foglia che ortaggi a frutto. Abbiamo diversi esperimenti in corso che riguardano in particolar modo la lattuga, biofortificata con molibdeno, selenio e iodio e, dopo questo elemento traccia, l'abbiamo simistrato tramite tecniche diverse, tramite, diciamo, per via fogliare, ovvero tramite fertirigazione. In questo progetto di ricerca abbiamo voluto valutare la quantità, gli effetti dei micronutrienti presenti nella lattuga su una popolazione. Infatti la biofortificazione consiste proprio in questo aumento di micronutrienti della lattuga e il nostro progetto di ricerca prevede di valutare l'effetto di 100 grammi di lattuga biofortificata e di lattuga controllo, quindi non biofortificata, su una popolazione di volontari. Quindi questi volontari consumeranno 100 grammi di lattuga al giorno per un periodo di 12 giorni e poi faranno un prelievo prima dell'inizio della somministrazione della lattuga e al termine della somministrazione. Quindi andremo a vedere gli effetti sulla fisiologia, quindi come cambiano i parametri ematochimici per vedere appunto gli effetti benefici di questa lattuga biofortificata. Noi siamo molto positivi perché questa è una sperimentazione che va già avanti da circa tre anni. Abbiamo avuto i primi risultati, li abbiamo pubblicati, quindi siamo molto fiduciosi che la prossima sperimentazione ci dia altrettanti risultati positivi. Fino adesso abbiamo visto che la nostra lattuga mangiata per circa due settimane ha prodotto nelle persone che l'avevano mangiata dei risultati di aumento di sostanze benefiche che poi sono risultate essere positive nel corso dello sviluppo della vita. L'abbiamo somministrata a persone molto giovani ma anche a persone molto anziane e abbiamo visto un cambiamento di alcuni parametri chimico-clinici. Ora per entrare in dettaglio i parametri che abbiamo visto sono per esempio l'aumento di vitamina D, l'aumento del calcio e l'aumento di altri biomarcatori. Questi biomarcatori sono utili nel processo di mantenimento e di sviluppo del nostro organismo. Certo l'abbiamo visto per un periodo di tempo limitato perché poi alla fine la sperimentazione è solamente di due settimane. Però siamo confidenti che questo possa durare a lungo e che la lattuga possa essere portata nel banco del supermercato e possa essere utilizzata su tutti gli strati della popolazione ma soprattutto non facendo male, non ha nessun effetto collaterale.